eccoci qua cari amici saluti tutti da Bordeaux siamo tutti la famiglia qui sul lungo fiume io sono sulla bicicletta di Pilar poi c'è Pepe e lì c'è Pilar Camps che fa la la professionista con i pattini e vi senta con il monopattino ciao sei l'ultimo hai signora è sposata è vedova sono sposata